Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video Oggi siamo qui, vabbè, ancora con OBS Spero di non gridare troppo Perché altrimenti il microfono sente un casino E sono qui per farvi vedere questo video Sulla news di... C'è un video di 30 minuti, ne ho anche uno di 18 Ma andiamo su quello da 30 Allora, tolgo già l'audio E lo ingrandisco un po' Allora, questa qui è la schermata principale Di Farming Simulator Lo stop un attimo perché non vorrei che andasse avanti Abbiamo carriera, multiplayer Tutorial, ovviamente come scorso Anno, mod Archivement, opzioni, poi lì sotto Non vedo cosa ci sia, hai i crediti E esci dal gioco Qua, vabbè, abbiamo le varie mappe Abbiamo il save game sulla Felsborn Bello, bello Caricamento molto interessante Ci sono le immagini che cambiano, mi sa E qua, vabbè, vi da sempre delle informazioni Ah, non ci sono le immagini che cambiano Cambiano le informazioni sotto E start Ok Tramite il tasto, tramite invio Potete startare il gioco Adesso c'è sotto una voce del tedesco Però ve lo commento un po' io Dai, se si sveglia a farlo startare Comunque, come si vede, è una bella casetta Direi austriaco come paesaggio Non proprio tedesco E sopra il castello Macchina che, vabbè, sembra una Tesla da dietro Ma non lo è, per forza E, eh, togliamo un attimo il mio mouse Ok, tiriamolo giù Allora, farm simone 319 Preview version Abbiamo, allora Questa è la farm principale Molto interessante Sembra piccolino Vabbè, il treno Pick up Come vedete Dove ci sono gli ad Sono trasparenti Appunto, in alto a sinistra Trasparente Abbiamo l'F1 Poi Questo qua il pick up Ci fa vedere un po' le sospensioni Se avete notato Ok, non so se c'è l'asse basculante Ma penso quasi di sia Potete selezionare la camera Ovviamente, su un pick up Non potete fare tante cose Ed è un lizard Qua vediamo il paesaggio Le betulle C'è una betulle Si vede poi No, vabbè, sono 3 o 4 betulle Il Le nuvole, scusate Che in teoria Avevo visto in alcuni video Che si muovessero Qua, vabbè, sembra inferme No, no, scherzo Si sta muovendo un pochettino Poco È proprio impercettibile Comunque sto dicendo In alto a destra Abbiamo, classico Il meteo L'ora del giorno Che si può anche Mandare avanti per 5 Ok, penso Perché adesso lì è per 1 E i soldi Ecco, vedete Che si muovono un po' le nuvole Ci starebbe a fare un timelapse Magari Per vedere meglio Questo qua non so cosa sia Penso sia un punto tipo Boh, magari No, penso che sia un punto così Di vendita di qualcosa Tipo dei pallet Perché, boh L'hanno fatto dire parecchie volte Ok La cosa che mi è piaciuta un sacco Vabbè, adesso si vede un po' Velocemente È la texture dell'erba È molto molto varia Vabbè, qua al sacco C'è il cestino Poi, vabbè Qua va sul centro Ci fa vedere un po' la città Ma a noi non è che interessa Più di tanto la città Comunque È bella la città E cioè Bella, bella sì È piena di case Nel senso Non è che c'è una casetta qua e là Sono tutte belle attaccate Tipo un centro storico È anche tutto Fatto col porfido Vabbè Qua c'è la statua principale Lì a sinistra Lì Il castello E la chiesetta Comunque vi ricordo Che questa qua La mappa europea Sarà quella che utilizzeremo Per la serie Ovviamente La mappa americana Magari la proveremo un po' Però Mai quanto Questa qua europea Qua è appunto C'era la statua Come avevo detto Andiamo un po' avanti Perché non vorrei stare qua Tutto il tempo A vedere la città Vabbè qua Fai una visita alla città Ok Torniamo sul pick up E ora sul John Deere Come vedete In basso a destra Abbiamo il tachimetro Abbiamo La lancetta della manutenzione Penso Con la sinistra Vabbè Aperto il menu Aspettate Però io vi sto dicendo Delle cose Questa qua L'lancetta della manutenzione Credo perché c'è Una chiave inglese Qui abbiamo Il carburante Lì è il carburante Penso che vada in su Quanto siete qua È finito Poi vabbè Kilometri orari Velocità massima E sotto il Sotto qua Abbiamo il conteggio Delle ore Bello bello Questo John Deere E ora siamo sul menu Allora come vedete Qua possiamo selezionare Aspettate che va su un po' Ok Possiamo selezionare Le culture Abbiamo A grass E questa qua Abbiamo le icone nuove Comunque come avevo Già fatto vedere Sunflower Soybean Corn Che è il mais Cotton è questo Hot E non mi ricordo più Canola La colsa Cioè no scusate Si dovrebbe essere la colsa Non saprei Poteto Sugarbet Oils Radish Raffano oleifero Poplar Che sono i pioppi Sugar cane Sono le carne da zucchero Poi qua possiamo selezionare Le varie cose È tipo un esc Questo Noi possiamo vedere Abbiamo il porto La stazione del gas Che non ho idea Di come funzioni Il biogas Railroad Passaggio dal treno Guardate che percorso fa Con le curve E questa qua è quella Che abbiamo visto Mi sa Che si notava già Questo spazio Poi abbiamo Un sacco di campi Questi qua Un po' isolati Belli Comunque queste stradine qua Tutte Piene di curve Belle belle E i campi Che adesso ci farà vedere Come acquistarle Mi pare Ecco Se andate sull'icona Vi compare il trattore Questa qua dovrebbe essere La nostra farm È piuttosto piccolina Non ho visto una cosa Però dove sono le vacche Torniamo un po' su Ok Non so voi Ma io non le vedo Qua c'è Grine Tutte quelle robe lì Il shop Lo shop è questo Aspettate Qua Gas station Penso sia tipo Un rifornimento Di benzina Gas station Cioè ha messo gas Posto di benzina Non lo so Questo qua è un parallelogramma Punto d'acquisto Se non mi sbaglio Queste sono galline Sembrano Quindi ci sarà Punto vendita galline Punto vendita Eh mi sa Ah il treno Ha solo un percorso Ma fa tutto il giro Della mappa Molto interessante Ecco questo qua È il centro Che abbiamo visto prima Mi pare Qua Non è solo un certo Sì è questo Perché qua c'è la chiesa E qua è il castello Poi dopo qua Si può schippare Sulle varie cose Che vi interessano Qua sopra Sembra Banca Statistiche Penso per comprare i mezzi Ecco Per acquistare i campi Praticamente Avete C'è i campi Non è che acquistate Il campo 13 Basta Aspettate Adesso va Va su Vediamo cosa fa Non è che voi Acquistate Ecco Per esempio Il campo 3 Basta Praticamente Lui vi acquista Il campo 3 E poi tutto L'ambiente circostante Cosa molto interessante Perché sennò Voi andate nei boschi Rubare legna Praticamente La vendevate Quindi penso che Il campo 4 Al 5 Ve le acquistate assieme I prezzi saranno più elevati Però È anche giusto così Non è che voi andate Volete magari Questa zona qua Cioè Questa zona qua Nel 17 Non si acquistava Bello anche Queste stradine Mamma mia Che belle Non si acquistava Praticamente Veniate qua Tagliavate Così senza nulla Quindi i soldi Saranno più difficili Da fare Cioè Bisognerà fare Molti più soldi Adesso non so Se fa vedere Chi acquista Una piccola zona Tra l'altro Sto video I 30 minuti Non vorrei dilungarmi Troppo Ad esempio La farm Compre tutta questa Parte qua Cosa anche Molto interessante Ovviamente Ecco Vedete Il campo 27 Voi selezionate Il campo E vi comprende La zona Che potete acquistare Allora Bilancio Ecco Qua vi dice Il valore Il bilancio attuale Il valore del campo Ah Per esempio Qua vi comprate Tutta questa zona Mamma mia Se è grande Però non trovo Il senso Di questa zona Sinceramente Eh no Vabbè Per le piante Costano parecchio Poi Come zona Comunque In questo modo Potete acquistarvi Tutta la mappa Un milione Per qua Vabbè Per le piante Se ci può stare Poi Ritorniamo qua Vabbè Vi fa vedere Nuovamente Le colture Comunque Questo qua Quello lì sotto Sembrava il punto D'acquisto Non capisco Dove sia le vacche Ah Ho capito Cioè In teoria Dovreste magari Mettere i posizionabili Può essere Ecco Questo qua È il nostro shop Abbiamo questo Magazzino Stile Sosnofka Vabbè Andiamo un pelo avanti Adesso Ve lo fa vedere Un pochettino No scherzo Il nostro John Deere Zavorra John Deere Ovviamente E guardate anche I dettagli Sto nota Cioè Si nota Un sacco La qualità Dei materiali Soprattutto Le ruote Pneumatici Non so se le notate Vedete proprio Le righe Queste qua Quelle Verticali Si nota Un sacco E mi piacciono Sto notando Anche che gli specchietti Sembrano funzionanti Dall'esterno Almeno mi sembra Non si vede benissimo Ma si vede Si vede un po' affuscato Ma si vede qualcosina Adesso ci va a dare le luci Schippiamo un attimo Ecco Ora va a prendere un attimo Il carico Con Il raccogli grano Raccogli grano Che io non ci vedo Molto bene Su questa mappa Però vabbè Allora qui abbiamo I fend La John Deere Eccolo qua Il raccogli grano Ah ecco Qua è comparsa Sotto La C'è la Barretta Con la capacità 49.000 litri In teoria Penso sia litri Ed è colsa Se non mi sbaglio Come vedete La colsa È cambiata Cioè non so Si dovrebbe essere colsa È cambiata la texture Vedete È molto più chiara Adesso qua dovrebbe scaricarla Per terra Mi pare Adesso non ricordo Gli ho già dato un occhio A questo video Ma neanche troppo Comunque Questa è la farm Guardate che bella La linea qua La tastata La scaletta I serbatoi Scusate Si è riempalato Un attimo Ok Vabbè Sterrato Mattonelle Cementato Tutto quanto E qui andiamo Una cosa molto bella Comunque guardate Che bella la farm La casetta Non è che un edificio unico È ben fatto Dov'è che è Vabbè qua Può entrare in casa Il cappano Questo va Un po' bruttino Sinceramente L'ho entrato in casa Ecco qua Abbiamo il fend Adesso si Si è bloccata la registrazione Ah no Ok va avanti Abbiamo il fend Con la Waderstad Guardate adesso Lo inquadra un attimo E poi va a collegarli Se non mi sbaglio Anche questo fend C'è dal 17 Sembra diverso Sembra tutta un'altra cosa Comunque fa strano Vedere un John Deerla dietro E qua questo fend L'erba Ecco qua Che c'è Ovviamente Non è che è tutto ben pulito Cresce anche erba ovunque Nei piazzali Guardate la differenza Dei materiali Questo qua Il cofano La marmitta Le ruote Il vetro Ah non l'ha collegato Vabbè Siamo passati sul manitù Il treno Ho visto che gira da solo Ah Cosa interessante Io volevo un attimo Farvi vedere Eccolo qua Il 724 Che adesso va a collegarlo La Waderstat Qua dietro Guardate il movimento Anche delle ruote Vi compare qua sotto La scritta Di cosa andrete a collegare Guardate come si alza E adesso qua davanti Vabbè Non è tanto bravo Collegato davanti Si è ristabilizzato E si è stato collegato Questo tubo Dinamico Si perché I cavi saranno dinamici Adesso Ecco si sono intravisti Dietro i cavi Che erano collegati bene Al trattore Guardate qua La ruota Come si abbassa Va bene anche troppo Però un pochettino si Belli movimenti Tutto quanto Guardate anche qua davanti Tutto collegato Cosa molto interessante Era il brutto di farmi Che le cose vengono fatte Prima per ramite Le mod E poi Di originale Comunque ecco Viene collegato qua Appunto Questo pezzo di metallo Che fa da supporto Per Ovviamente Le sementi Poi Qui abbiamo sempre Un fend Non so se 724 Comunque con il sarchiatore Che vi permette Di rimuovere le pianti Penso siano infestanti Ecco Le erbacce Sarchiatore Che sarà molto comodo Molto più del 17 Le 17 Usate per fertilizzare Era soltanto scopo Di migliorare E anche questo qua È Diciamo Lo span di fertilizzazione Cioè Diserbante Anche se il diserbante In teoria È un Span di disinfestanti Una cosa simile Cioè Perché sennò E gli venerebbe tutto raccolto Qui abbiamo la John Deere La tribia Che Dai ci sta Ci sta che non hanno fatto subito Una John Deere Quella grande Magari ci sarà anche quella grande Però almeno c'è anche una piccolina Per non usare la stessa shampoo Sempre la solita shampoo Che alla fine La shampoo La John Deere Più o meno Vabbè Sto qui è un modello più grande Però Diciamo che la shampoo O viceversa La John Deere È stata copiata dall'altra L'una è stata copiata dall'altra Nell'est Quindi penso che Sia la John Deere Che C'è la shampoo Proprietà della John Deere Che nell'est Viene venduta come shampoo Vabbè Sto carro è enorme Lasciate perdere Bello il silos Ecco il punto di scarico Ah eccolo qua La sinistra È un po' bruttino Sinceramente Comunque che velocità In retro Qui abbiamo L'optum Con lo span di fertilizzante E se non mi sbaglio C'è la calce Come nuova coltura Sì esatto Arrateli il manitù Con sulla calce E abbiamo Ecco la contadina Si può scegliere Contadino Contadina Come volete Questo qui è un Bredal Che è immenso Come span di fertilizzante Adesso non so Se fertilizza anche fuori Però in teoria se comprate Sì Ah potete calpestare l'erba Ho visto E si sta spargendo la calce Vedete resta in giù le impronte Delle ruote Cosa molto Anche interessante Vedete Si intravedono Delle sorte di impronte Poi la Komatsu Nuovo macchina C'è nuovo marchio E macchinario Che prima non c'era Diciamo che questo qua L'avete visto Sulla mia serie alpina La prima stagione Una versione un po' più vecchia Forse E le tagliano Ste piante Tra l'altro Si nota la pianta Che è storta E anche qua Ecco vedete Sti rami Voglio un attimo vedere Perché non l'avevo ancora visto Questo video E qua ci sono rami Belli grossi Nella realtà Dovrebbe Tagliarli E lasciarli a terra Mentre quelli più fini Vabbè Qua su Farmy Non li lascia Adesso sta provando un po' No non l'ho usato Comunque belli c'è spugli Tutto quanto E bello anche questo macchinario qua Spero ci sia qualcos'altro Dalla Komatsu Siamo passati sul treno Velocità di punta 70 all'ora Non male La passa davanti A una stazione Bello comunque I pali dell'elettricità Belli belli Tornati sul pick up Sembra che abbia Un cassone più grande Bello all'interno comunque E ora dov'è che ci porta? Allo shop ancora? No dai Si sentra visto Il rosso Quindi Credo sia L'aratura richiesta Comunque Di grandi zone boschivi Non è che ce ne siano tante Almeno Vabbè c'è questa Qua intorno Ok Siamo al biogas Qua sembra il cassone Di un fliegel Finalmente Biogas Ok Eccolo lì Ah potete Ah dovete comprarlo il biogas Quindi Cos'è? Learn Ah no è Pensavo fosse noleggiarlo Invece no 259 mila euro Però Bello costoso Si praticamente Lo scopo di sta mappa È di acquistarvela tutta Guardate che belli i fari Sembrano quelli Di stadio Cioè dei campetti O cose così Da calcio E voglio un attimo Derlo meglio però Sto biogas Non soltanto qua Vabbè abbiamo il solito display Bello il capanno Spero che si possa aprire Vediamo un po' No non ci fa vedere Bello comunque tutte le strutture qua dietro I motori Tutto quanto Io volevo vedere se ci Vabbè non ci fa vedere Siga station Sembra Una stazione di rifornimento Normale Qua c'è il porto Tra l'altro Che è un punto vendita Siga station Appunto è un distributore Bella la mappa Perché anche dei bei saliceni Guardate qua sopra Come si alza La montagnetta Tutto quanto E adesso cosa ci fa vedere Vediamo un po' Comunque il biogas Volevo vedere un attimo Le trincee Che non si sono viste Non so se magari In qualche video si è viste Tra l'altro Qua sopra c'è un campo Eh si c'è un campo Si Non me l'aspettavo Sinceramente Sarebbe bello Ecco questo campo Seminarlo con abeti Se caso Ma ci penseremo ragazzi Perché più oppure Ora che arriviamo in su Dobbiamo fare tutto un giro Assurdo Con gli abeti Ci starebbe Perché veniamo in su Una volta Tagliamo tutto E veniamo in giù Savo 1000 È un punto di vendita Teoria Esatto Ah ci sono le icone Ecco non ci sono più le icone Nei campi Perché acquistate dal menu Ma ci sono le icone Queste qua gialle Gialle arancioni Come volete E sempre anche queste ruotano Non è che sono fisse Come nel 13 Vedete Si ruotano a seconda Di come vi posizionate Qua penso che Sao 1000 È forse la seceria Eh si C'è il punto di vendita Del cippato Che si era visto Dovrebbe essere qua Poi Grine mill È il punto di vendita Del grano Quelle cose lì Ah voi cliccate sopra E vi seleziono No Tra l'altro Qui ho fatto vedere Un attimo Una cosetta Ecco vedete Qua l'ha cippato Qua penso che sia Delle gnome Sì una segheria Per forza Allora Andiamo piano Eh si era Intravisto Qualcosina Non ce la farò mai A selezionare Il punto esatto Eccolo qua Weed È in teoria Erba Ah Penso che ci siano Gli infestanti Magari boh Need Lime Quindi penso sia tipo Una Lime Dovrebbe essere tipo Fertilizzazione Calce Ecco Fertilizzato Need Aratura E weed Non so se Magari è È lasciato così E c'è erba Magari i campi non vostri C'è l'erba Nei campi non vostri E boh Non lo so Comunque andiamo avanti Adesso ci sta portando A grain mill Ecco qua Un punto di Di vendita Tra l'altro lì C'era il coso Dalla calce Bella l'erba E tra l'altro Non so se Ve lo ricordate Ma se passate su un campo Seminato a frumento Con un trattore Praticamente Vi schiaccia il frumento Poi uscite dal campo Col trattore È venuto ancora su Però non avete il mais Ad esempio Che vi entra in cavina Perché viene schiacciato Bella questa zona Con le rocce Il ponticello E tutto Sono molto curioso Di provare questo farming Perché Boh Mi sta incuriosendo Sempre di più Come ogni anno C'è questo qui Tra l'altro è Il terzo anno Che aspetto farming Diciamo che nel 2013 C'è il 15 Il 17 Il 19 Nel farming simulator 2013 Diciamo che Seguivo già L'ambito di farming Ma Diciamo che Volevo acquistarmelo Quando era già uscito Da un po' Tipo da un paio di mesi Non l'ho seguito molto Perché poi Era anche piccolo Così erano 6 anni fa No Eh più o meno si Vabbè Qual treno Non mi interessa Ecco Sulle impostazioni Allora Questa impostazione Qua penso sia qualcosa Dei veicoli Ah Impostazioni del veicolo Ok E Impostazioni di veicolo Impostazioni di gioco Soldi E statistiche Qui abbiamo Tante personalizzazioni Vabbè Di grafica Questi credo Euro Ok Possete Name Gamescom Tempo reale Comprare tutte le varie cose Engine start on Stop Go breaking Ok Traffic Ok Crop destruction Ah potete metterlo Oppure no Bello Praticamente la distruzione Della coltura Quando ci passate sopra Di default Interessante Plant grow Non saprei Ecco Weeds Le erbe Ah Le erbe infestanti Credo Lime requered È tipo Una sorta di calce Che c'è O li qua O manure Boh Una cosa simile Lime Penso che È tipo Una cosa Che raccolgono Dei fiumi È tipo Un terreno Fertile Comunque È tipo Una fertilizzazione Naturale Dei campi Ad esempio La calce Autosave Una cosa Che era Autosave Vabbè Interval Ah potete Decidere Autosalvataggio Ad intervalli Di tempo Ritorniamo avanti Ecco Bello Il lampeggiante Vabbè Ruote strette Su questo Ovviamente Qua non so Neanche che cultura Sì Sembra tipo Patate O Bietole Dove ci porta Ah ecco Guardate Qua possiamo Selezionare Cosa vogliamo Vabbè Classiche Colore Delle culture Qua Della crescita Non sono Cambiate E E E E Vabbè Questi qua L'abbiamo Visto Milla Volte Qua Abbiamo La nostra John Deere Mi sa Che finisce Qua E con la John Deere Guardate Ecco Che bello Ci distinguono Un sacco I colori Bello Il Deere Perché Sulle ruote Si E tipo Sono quelle Mod Del Model 3 Adesso Non mi ricordo Come si chiamano Comunque Quelle Mod Real Model 1 2 3 Ecco Guardate Qua Anche Quello I collegamenti Dei cavi E Guardate Appunto Qua Gira Il materiale Qua sopra Rende un sacco Perché c'è Il E3D Il cielo C'è Diciamo C'è La guaina In gomma Qua Sembra Un po' Plasticoso Però Ok Scaletta E Non ci fa Vedere Più Nulla Tra l'altro Sembra Che si muova Un po' In campo Se vedete Non so Se è il tizio Che la sta Muovendo Però si muove Un pochettino Le texture Del terreno Non sono Male E Nulla Ragazzi Allora Questo video Termina Qui Vabbè Possiamo Vedere Apertura Della Pipa Della Pipa Che sarebbe Il canotto Turn on Vuol dire Accendi Trebbia Tra l'altro Non ci da L'iconcina Di cosa Abbiamo collegato Strano Select camera Seleziona la camera G Selezioniamo Davanti o dietro La trebbia O la barra Poi Cruise control Col 3 Col 2 L'1 Possiamo Impostare Una velocità Lower header Abbassate la lama E toggle Straw Swat Con la virgola Praticamente Abilita la L'andana Paglia Io ragazzi Spero tantissimo Che questo video Vi sia piaciuto E uscito un po' in ritardo Rispetto al solito Concorrate anche i paesaggi Che belli Ecco una cosa che non mi piace Sono queste piante qua Sono belle paesagisticamente Ma la tagliare Sono un casino Io vi saluto Vi ringrazio E noi ci vediamo Domani Oppure anche più tardi Oppure ci siamo già visti Stamattina Con un altro video Delle news Perché in teoria Ieri Che dovrebbe essere stato Cioè venerdì Di solito escono le news Quindi Vi avrò fatto un altro video Oppure uscirà più tardi Comunque vi saluto Vi ringrazio E noi ci vediamo prestissimo Con un nuovissimo video Ciao a tutti Toretti E al prossimo video